Allora, la volta scorsa abbiamo visto come fare la forma del piatto avevamo anche messo sul retro di questo piatto il disegno adesso vi domanderete come mai, abbiamo preso un'immagine ma non l'abbiamo utilizzata, in realtà l'abbiamo utilizzata perché abbiamo praticamente preso i dati della forma che potevamo dedurre da questa immagine quindi in particolare abbiamo visto che in questo punto effettivamente c'era una transizione e l'abbiamo cercata di replicare è tutto molto, diciamo, arbitrario adesso qui proviamo a vedere invece come aggiungere una UVMap per testurizzare questo oggetto quindi ecco, una cosa, qui ci sono vari trucchetti, tante cose possono andare male vediamo un attimo questa tecnica quando avremo visto questa tecnica cercheremo di ripilogare i pezzi i passi in modo tale che possiate farli senza errori perché basta saltarne uno di questi passi perché la tecnica non funziona quindi è abbastanza delicato allora, primissima cosa, cosa facciamo? dobbiamo fare la UVMap di questo oggetto quindi andiamo in modalità oggetto qui abbiamo già una UVMap in realtà che è quella dello sculpted ma non è quella che ci serve a noi serve fare un'altra UVMap e per fare l'altra UVMap basta fare un nuovo texture UV creiamo un nuovo livello della texture UV questa texture si chiama UVTex allora, questa UVTex che noi creiamo su cui noi vogliamo andare dovrà contenere una UVMap di questi oggetti quindi proviamo a questo punto a crearci una immagine nuova 1024x1024 dove cercheremo di far vedere adesso qui sto cercando di muovere la in questa immagine che adesso è vuota cercheremo di mettere la nostra UVWrap allora, per averla bisogna prendere tutta la parte di sopra di questo piatto e generare praticamente una serie di diciamo una grigliatura piatta infatti UVMap è praticamente una grigliatura piatta di un oggetto tridimensionale allora, cominciamo ad andare in modalità Edit quindi siamo qua andiamo in modalità Edit e avendo tutti i vertici selezionati non ci va bene quindi togliamo la selezione diciamo di selezionare soltanto i vertici visibili le facce visibili e poi cerchiamo di selezionare soltanto la parte di sopra che stiamo vedendo e lo facciamo con questa tecnica del pennello quindi premendo B, B facendo B, B io vedete premendo il tasto sinistro del mouse riesco a selezionare tutte le facce su cui passo e quindi praticamente vedete riesco a selezionare sempre tenendo premuto il mouse posso selezionare in maniera ragionevolmente precisa un bel po' di facce se per caso mi scappa una faccia posso cliccare su quella faccia col tasto centrale del mouse esc ecco mi completa ecco qua c'è la UV map vecchia che mi aiuta a capire se ho selezionato tutte le tracce e come vi ho detto ho selezionato metà delle facce e quindi effettivamente una delle facciate del mio piatto però devo fare a questo punto una UV unwrap di questo oggetto stiamo vedendo l'oggetto dall'alto vogliamo una UV map che ci faccia vedere esattamente questo genere di cose quindi facciamo U e facciamo project from view ecco vedete abbiamo la nostra UV map che ci sta cominciando a formare e questa qui è la parte diciamo di fronte quella di alto del piatto proviamo a generare anche il retro quindi per generare il retro una cosa più semplice è qua fare ctrl i in maniera tale da aver selezionato vedete il residuato nella parte di dietro vedete che ho selezionato tutto il dietro vado sul ctrl 7 quindi vado sul guardo il piatto dal di sotto lo vedo tutto selezionato e posso anche qua fare U e ambrappare il project from view e avere la seconda la seconda wrapping allora questo wrapping lo selezioniamo quindi tasto destro qua L vedete che lo seleziono e mi prendo questo che è il retro del piatto e me lo sposto questo perché adesso se torno sulla parte sinistra e seleziono tutti i vertici vedete che abbiamo le due le due parti la parte di sopra e la parte di sotto facendo con un certo ordine riesco a capirci qualcosa adesso queste parti dobbiamo mapparle su un'immagine che poi è l'immagine del piatto quindi la cosa che dobbiamo fare è di caricare la nostra immagine famosa che avevamo anche prima quindi apriremo il piatto questo ecco una cosa che può capitare è che il unwrapping venga fatto sull'immagine sbagliata qui non ho ancora capito bene come aggiustarsi comunque poco a fase per arrivare a questa immagine ho dovuto farlo andare di nuovo cioè convincerlo di andare sull'immagine giusta che è questa cioè quella untitled che avevamo preso e di questa immagine caricarci sopra proprio l'immagine Daisy Plate che è questa quindi a questo punto noi abbiamo effettivamente il nostro oggetto a posto ecco per vedere gli effetti della texturizzazione però sarebbe opportuno vederli bene quindi cosa facciamo andiamo prima sul nostro piatto e scegliamo la modalità Textured ok adesso vedete che praticamente qui si vede un pezzo della texturizzazione che è poi quello che vede questo oggetto qua quindi per vedere la texturizzazione completa basta prendere questo oggetto e renderlo diciamo aderente al piatto originale quindi basta cliccare su questo oggetto L per selezionare la regione ecco vedete che in questo momento si è alterato facciamo S e lo elunghiamo solo sulla X perché per farlo diventare un po' più circolare quindi più adatto al piatto poi vedete che in questo momento lui effettivamente il piatto mi sta facendo vedere la parte centrale ma noi vogliamo farli vedere tutto quindi lo facciamo con S lo ingrandiamo ok e poi vedete che c'è ancora un po' di fetto ancora ovalizzato quindi dobbiamo ancora estenderlo sulla X S X lo instendiamo leggermente sulla X ok e quindi a questo punto se abbiamo fatto le cose giuste la parte di sopra è a posto per la parte di sotto il retro del coso non è a posto perché sarebbe poi questa quindi la seleziamo con L e possiamo spostare questa zona ecco vedete che spostandola lui sta facendo vedere quello che verrebbe che entra dentro la parte laterale se voglio che la parte di dietro del piatto sia esattamente questa parte devo innanzitutto me lo restringo più o meno come ho visto prima questa volta il retro ci interessa molto di meno quindi lo facciamo molto piccolo e poi lo muoviamo con G lo muoviamo una parte neutra del piatto e quindi vedete che il piatto ha dunque da una parte ecco in realtà ho invertito le cose perché vedete che lui ha fatto il davanti del piatto e l'ha fatto con il retro quindi dobbiamo ripetere l'operazione al contrario qui può succedere e allora facciamo così prendiamo questa zona qua L ce la portiamo su e la restringiamo poi prendiamo questa parte qua la mettiamo qua in centro la scaliamo ce la spostiamo leggermente qui dobbiamo fare un uno scalatura sulla Y ok poi selezioniamo di nuovo l'altra parte e la spostiamo su una zona neutra come al solito ed ecco che abbiamo invertito le due texture quindi il di dietro adesso effettivamente è giusto e il davanti è giusto se andiamo in modalità oggetto vediamo come è venuto e se è venuto bene quindi se è venuto bene facendo in questo modo però cosa abbiamo visto vediamo che si vede attraverso l'oggetto quindi vuol dire che le normali dell'oggetto non sono corrette quindi magari era giusto anche prima sapete questi sono i giochi che fa anche con il second life cioè che si vede l'oggetto in maniera molto strana quando fa queste cose l'ideale sarebbe quello di andare in in modalità sempre edit e di lavorare sulle normali e di ricalcolare le normali verso l'esterno e quindi come vedete in realtà all'inizio abbiamo fatto giusto quindi allora esercizio di stile rifacciamo di nuovo da capo quindi riprendiamo il nostro oggettone questo ce lo spostiamo lateralmente lo facciamo piccolo riprendiamo il nostro oggetto ce lo spostiamo qua lo ingrandiamo nuovamente quindi in realtà era giusto all'inizio lo spostiamo in modo tale che prenda tutto ok riselezioniamo l'oggetto questo rimettiamo in un punto neutro e poi andiamo in modalità così ecco vediamo ecco a questo punto dovremmo avere l'oggetto e dovrebbe vedersi texturizzato correttamente allora questo è tutto per la vabbè poi se ci sono dei difettini che vedete ma mi sembra che sia a posto quindi il piatto diciamo che dovrebbe essere pronto nella sua forma diciamo blender in realtà adesso manca ancora il fatto di texturizzarlo di fare proprio la texture sculpted che va bene per il piatto e questa è un'operazione che faremo nel prossimo video quindi aspettate la terza terzo video